Sfruttando una singolare interpretazione della normativa nazionale a favore della categoria degli studenti lavoratori, universitari catanesi sono riusciti ad ottenere indebitamente cospicue borsi di studio tra il 2009 e il 2014. Il meccanismo era semplice, la legge nazionale concede il beneficio allo studente lavoratore che da almeno due anni ha abbandonato il nucleo familiare d'origine e dimostra di avere un arreddito da lavoro dipendente. A Catania invece bastava il semplice cambio di residenza per reclamare la borsa di studio. È stato il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta al termine di una complessa attività di polizia economico-finanziaria a fare luce su quanto accadeva. L'attenzione dei finanzieri si è concentrata sulle domande degli studenti risultati vincitori di borsa di studio nella categoria dei cosiddetti indipendenti per gli anni accademici dal 2009 e 2010 ad oggi. A differenza delle altre università d'Italia, infatti, secondo l'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Catania, Ersu, lo studente che da almeno due anni aveva trasferito anagraficamente la residenza, per esempio presso i nonni, anche se non produceva reddito proprio, si considerava svincolato dalla famiglia d'origine che lo avrebbe collocato in una fascia di reddito troppo alta per poter beneficiare degli aiuti economici, semplicemente perché entrava a far parte di un nuovo nucleo familiare con reddito non prodotto dallo studente, notovolmente inferiore. Così c'era chi variava la residenza presso la seconda casa dei genitori, al mare o in montagna, assieme al nonno pensionato, chi si trasferiva presso i nonni, assieme ad un cugino o un fratello al fine di ottenere entrambi la borsa di studio, chi già aveva la nonna in casa con i genitori e trasferiva comunque la residenza nella stessa via, ma ad un vecchio numero civico nel quale risultava ancora l'anziana signora. Disattendendo le norme di legge, Ersu ha infatti distribuito indebitamente migliaia di euro a studenti non eventi requisiti, sottraendoli quindi ad altri soggetti realmente meritevoli attraverso un'errata compilazione dei bandi annuali che disciplinavano le modalità per partecipare alla segnazione dei benefici economici. L'attività aspettiva ha permesso di segnalare alla Corte dei Conti quattro dirigenti dell'Ersu che con le loro condotte hanno provocato un danno erariale per oltre 350.000 euro, di cui si sono avvantaggiati 86 studenti in relazione a borse di studio comprendenti rimborso spese, alloggio, premi laurea e rimborso della tassa diritto allo studio. 49 gli studenti denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato è falso.